Resterà nella stazione Tiburtina di Roma il terminal degli autobus in arrivo dall'Abruzzo, la rassicurazione della sindaca a Raggi al governatore Marsilio. Il terminal per i bus dall'Abruzzo rimarrà nella stazione Tiburtina. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha scritto al governatore Marsilio per rassicurarlo sull'ipotesi di uno spostamento dell'autostazione al Lab di Anagnina. Una decisione che avrebbe allungato i tempi di percorrenza a migliaia di pendolari. Marsilio aveva sollevato il problema dopo l'approvazione di una delibera della giunta Raggi in cui veniva rilanciata la stazione di Anagnina come capolinea per le tratte interregionali.